Era andato a fare shopping con la carta di credito rubata poco prima di una giovane di Solesino. I carabinieri sono riusciti a rintracciare il responsabile incrociando i movimenti del Bancomat con le immagini di videosorveglianza dei negozi in cui erano stati compiuti gli acquisti per un quarantenne di legnago e scattata la denuncia per ricettazione.